Ho cominciato come freelance, io andavo tutti i giorni sotto la sede del giornale della mia città, che era Padova, a suonare per chiedere un appuntamento col direttore o col caporedattore. Che strumento suonavi? Suonavo un campanello e gli chiedevo ogni giorno se mi facevano scrivere. Buongiorno ragazzi e benvenuti in Fuori Brief, il primo e l'unico per ora podcast di Flatmates Agency. Anzi, ci troviamo qua infatti nel nostro salotto, di solito questo divano non è adibito a podcast, ma per questa prima puntata e forse anche per le prossime saremo su questo nostro mega divano da 1500 euro che ha comprato Michi. Ma non dovevi dirlo. Esulando dal budget che c'eravamo predisposti per l'allestimento di questi uffici. Siamo qua con il nostro primo ospite Marco De Rossi, Marketing Manager di H-Pharm School. H-Pharm College, H-Pharm Education. H-Pharm College, H-Pharm Education, che ci racconterà il dietro le quinte del marketing di una scuola privata in un mondo come H-Pharm. Come mai Fuori Brief? Come mai esiste Fuori Brief? Michi, raccontaci. Ma Fuori Brief esiste perché volevamo chiacchierare con degli amici che fanno il nostro lavoro e raccontare un po' il dietro le quinte di una professione che viene raccontata poco. Nel senso che si vedono le campagne, a volte ci sono un po' di merdoni che scoppiano, vedi il caso recente di Open to Meraviglia, poi magari ne parliamo. Però invece come si arriva in fondo a una campagna, come si arriva alla negoziazione col cliente, eccetera, spesso non emerge. Quindi noi da agenzia cerchiamo di portare i clienti a raccontare appunto una professione che è bella intricata. Agli occhi dei comuni mortali la pubblicità la fanno i brand, per cui se Gucci fa una campagna, come dire, l'ha fatta Gucci, ma in realtà all'interno abbiamo delle persone predisposte. I marketing manager che poi alcune volte da soli, alcune volte sono proprio coloro che parlano con le agenzie, si occupano di realizzare le campagne. E spesso va a parlare l'amministratore delegato e, come dire, dietro le quinte non parla mai il marketing manager che magari ne ha di cose da dire. Giusto? O meglio che non le dica. O meglio che non le dica, perché ha tutta una serie di cose segrete che non può dire. Come hai fatto a diventare marketing manager? E poi dopo ti chiederò cosa fai, cosa fa un marketing manager? Allora intanto ciao a tutti e grazie mille dell'invito ragazzi, è un piacere essere qui con voi ed è un piacere parlare di una cosa che effettivamente raramente si ha modo di raccontare in maniera più pubblica, ma che resta spesso nelle discussioni tra detti lavori. Quindi è una bella occasione, è una bella idea. Ringrazio Classmates per l'occasione e l'opportunità. Come ho fatto a diventare marketing manager? Boh. Io faccio fatica, se dovessi disegnare in una linea del tempo qual è il percorso che ho fatto, direi che è difficile prevedere che da un inizio di un certo tipo si sia arrivati a una fine come quella, fine insomma, diciamo, a un punto come quello a cui siamo giunti oggi. Perché io nasco e lavoro per tanti anni come giornalista. Io ho fatto giornalista di cronaca, quindi dalla cronaca sportiva inizialmente a quella culturale in un secondo momento, fino ad arrivare alla giudiziaria, alla politica, alla cronaca nera, quindi... Per i freelance? Ho cominciato come freelance, andando a proprio consumare le scarpe. Io andavo tutti i giorni sotto la sede del giornale della mia città, che era Padova, del Gazzettino di Padova, a suonare per chiedere un appuntamento col direttore o col caporedattore. Che strumento suonavi? Suonavo un campanello e gli chiedevo ogni giorno se mi facevano scrivere. Gli proponevo delle idee e per un periodo manco mi aprivano. Poi da un certo momento sono riuscito a salire le scale e quindi a parlare con la secretaria di redazione, fino a quando mi hanno cominciato a far scrivere qualcosa e da lì è partita questa passione che poi è anche una droga in parte, quella del giornalismo, che mi ha portato a lavorare per tanti anni come freelance, prima il Gazzettino, poi il Corriere del Veneto, quando aprì il dorso regionale del Corriere della Sera. in Veneto e poi ho fatto per 4-5 anni il caporedattore dei giornali Free Press che aveva aperto Niki Grauso, che si chiamavano il Padova, il Brescia, il Venezia, il Treviso, il gruppo era i Polis. Ma che formazione hai? Io ho una formazione letteraria, ho studiato tutto ciò che mi teneva lontano dalla matematica, quindi ho fatto prima il liceo classico e poi ho frequentato lettere e devo dire la verità, è la mia nemesi, nel senso che io oggi invece lavoro in gran parte con numeri e con Excel, cioè ho cercato di fuggire dalla matematica per lungo tempo e alla fine in realtà la matematica mi ha rincorso, mi ha acchiappato, per fortuna portandosi dietro Excel che è un po' di cose e adesso per fortuna ancora di più chat GPT e amici vari che hanno ridotto diciamo il rischio errore sulle basi matematiche. Quindi il passaggio giornalista a marketing manager come è venuto? Il passaggio è venuto in maniera anche lì casuale, nel senso che come spesso avviene chi si occupa di contenuti di giornalismo alla fine sbarca a fare comunicazione, i giornali quando hanno chiuso i giornali di e-polis per cui lavoravano era diventato un po' meno interessante dal punto di vista economico collaborare, quindi fare il freelance, per cui ho cominciato a fare, e già l'avevo cominciato a fare prima in precedenza, comunicazione d'azienda per vari enti, per varie società, per varie strutture e pian piano questo mi ha portato a fare la comunicazione per la CGA di Mestre che è un ente che si occupa di piccole e medie imprese, è uno dei soggetti più accreditati oggi nell'analizzare in termini numerici e statistici l'andamento delle piccole e medie imprese italiane e alla fine sono stato per 4-5 anni responsabile della comunicazione dell'Università Capo Oscari a Venezia, portavoce del rettore. Quanti anni hai? Io ne ho 45. Ah, ecco perché. Ecco perché questo commento. Un sacco di cose, hai detto 200 cose. Considera che comunque chi fa questo tipo di strada e che non arriva direttamente e non ha un focus diretto sul marketing per arrivare a fare marketing manager, oggi esistono percorsi molto più strutturati rispetto a quelli attraverso cui sono arrivato io, il mio percorso di storia e di vita è strutturato per tanti cambi. Nel senso che chiunque ha svolto un po' questo iter e questo corso sonorum, diciamo, ha cambiato tanti mestieri. Si è sperimentato, ha sperimentato tante cose. Considera che io ho fatto anche per un po' di anni, tre anni, quattro, tre anni e mezzo, la comunicazione e la comunicazione di crisi di una società di costruzione importante italiana con cui mi sono trovato a collaborare per lungo tempo, di una famiglia importante veneta. È stata un'esperienza, un banco di prova durissimo. E appunto il punto di unione è dalla comunicazione alla promozione, al racconto e al posizionamento del brand. Quindi è stato un escursus che ha portato anche le mie competenze ad andarsi a specializzare sempre di più da un punto di vista anche di posizionamento del brand. È chiaro che la mia anima è più di contenuto, quindi io comunque quando guardo a qualcosa che facciamo in ambito di comunicazione e di marketing ho una sensibilità un pochino più alta rispetto al contenuto piuttosto che al numero stretto di CR piuttosto che CPL, via dicendo. Especialmente adesso che il marketing è molto concentrato sui contenuti, è pieno di persone del giornalismo anche nei vari progetti editoriali che ci sono online. Sì, ti volevo chiedere se ti manca un po' sporcarti le mani. Sì, devo dire che lo dico sempre. Da un lato ringrazio di esserne uscito perché comunque è un mestieraccio, soprattutto nella cronaca. Io comunque per scelta di vita sono rimasto nella mia area di ingerenza, quindi insomma in Veneto in cui comunque le cose che avrei potuto fare sarebbero state anche un po' meno. Ed è un lavoro che assorbe tanta vita. Assorbendone tanta e dandoti un sacco di anche soddisfazione e di adrenalina, manca. Come tutte le cose che danno adrenalina, di sicuro è una mancanza. Così come devo dire che a me manca, nonostante quello che si dica dell'informazione in generale, la libertà che ho sempre percepito di avere nel momento in cui... Da giornalista eri libero, invece da marketing manager chiaramente... Impossibile. Fai il marketing. Devi comunque rispondere alle esigenze di azienda e di brand per cui... Un certo linguaggio, degli obiettivi da raggiungere. Cambia proprio la logica nel senso che il marketing comunque è chiamato a generare... Vendite. Vendite, lead, perlomeno lead diciamo così, almeno contatti, cioè persone potenzialmente degli interessi. Quegli interessi comunque hanno poi una loro controparte economica. Il giornalista in realtà invece non ha mai in testa questo aspetto. Puoi avere chiaramente un po' più di attenzione rispetto a una cosa o un'altra. C'è un grande brand che investe sul giornale e magari un minimo... Sì. Lo scrupolo te lo fai, ma ti fai lo scrupolo. Perché poi in realtà se hai da raccontare una storia la racconti. Ok. Michi ha una teoria, per cui stavamo aspettando un podcast su cui applicarla, per cui ti lascio un po' l'esplicazione di questa teoria. Sì, ma oddio, è una teoria che applico su me stesso, quindi la base empirica è un po' limitata. Però io credo che tutti noi basiamo la nostra personalità su chi eravamo in adolescenza. Ok, quindi io rivedo nell'essere stato skater, nell'aver suonato in un gruppo punk, alcuni tratti che poi riflettono la mia vita da adulto. Mi chiedo, com'eri in adolescenza, quali erano i tuoi interessi e ritrovi dei tratti anche nella tua professione? Allora, da adolescente ero un adolescente motorizzato, nel senso che per me la libertà che mi ha dato la possibilità di muovere... Cioè, avevi il motorino? Era lo scooter. Avevi lo scooter. Erano gli anni degli scooter. Beh, a Roma sono sempre gli anni degli scooter. Diciamo che adesso vedo invece che nelle città medie è calato molto il numero di ragazzini. Per noi era un traguardo, cioè a 14 anni, 15 anni dovevi avere lo scooter. Perché era il modo per essere indipendente, la famiglia. O la macchinetta se eri di un certo sociale ancora più alto? Io non ce l'avevo ancora. Cioè, nei miei anni tu sei più giovane, chiaramente la macchinetta non le hai visto. C'era tipo l'Apecar, forse. Sì, l'Apecar. Che però non era proprio una roba cool. Anche se devo dire che nella mia scuola, nel mio liceo che frequentavo a Padova, che è il liceo Tito Livio, insomma il liceo classico storico di Padova, c'era una ragazza bellissima che veniva in Apecar ed era considerato molto cool perché era veramente... Influencer marketing. Un tratto distintivo. Topa marketing. Tu avevi lo scooter? No. Io no, no. Mia mamma mi ha sempre impedito di mettere a rischio la mia vita su uno scooter. Per cui diciamo che uno dei tratti distintivi era la libertà, c'è la possibilità di muoversi. Sono stato sempre sportivo, giocavo a calcio e ho sempre amato le relazioni con gli amici in maniera molto grande. E questo, devo dire, forse questo tratto è quello che ritrovo anche nel lavoro. Cioè, io per esempio ho sempre lavorato, in qualsiasi ruolo abbia avuto, nei desk con tutti. Cioè, se uno mi dà un ufficio, io esco dall'ufficio e mi metto con le persone. Perché in qualche maniera mi fa stare meglio potermi... Al di là che lo trovo più utile, perché si intercettano molte più questioni, molti più... Si riesce a essere molto più di aiuto riuscendo a interloquire con tutti quanti. Però in realtà mi trovo proprio meglio a potermi relazionare con le persone. E questo forse, devo dire, per suffragare la tua teoria e trovarci allora in due a poterla sostenere. Vabbè, perché Marcello era un nerd e è rimasto tale quale. Cioè, rivedo questi tratti in realtà. No, ero curioso se avessi qualche attitudine un po' urban, così, ma perché nella comunicazione... Eri un black bloc. No, non ero un black bloc, però diciamo che quel pezzo politico lì, erano gli anni dei disobbedienti, quindi pre-Genova, il mondo delle tute bianche. Perché è stato un mondo a cui sono stato vicino per scrittura, nel senso che, come sempre poi nel giornalismo funziona che ognuno si occupa un pochino di un settore. Ci si divide i compiti, è più o meno un settore. Il mondo dei disobbedienti, non black bloc, quindi non il mondo anarchico, ma più legato ai centri sociali, è stato un mondo che ho scritto tanto. Anche per comprensione, in qualche modo, non perché lo sia mai stato, ma perché comunque lo guardavo forse con un occhio di attenzione per certe tematiche, non so, il diritto alla casa, la possibilità, l'accesso alla formazione, tutte queste cose che in qualche modo forse... E poi sei diventato un uomo del capitalismo. E dopo sono diventato un uomo del capitalismo, perché tengo famiglia. Esatto. Numerosa. Ah. Io ho tre bimbi. Ok. Due gemelli, si chiamano Pietra Dora e una ragazzina di 11 anni che si chiama Olivia. E in realtà poi, insomma, non tanto per quello, ma insomma, devi confrontarti con il mondo di tutti i giorni e devi portare a casa uno stipendio, dare struttura alla tua vita e quindi in qualche maniera la società capitalista, che è l'unica società che oggi noi conosciamo sostanzialmente, ti porta a doverti... E poi è anche figo fare il marketing manager. Sì, è figo. Raccontati un po', nel presente, com'è la tua giornata da marketing manager? Perché poi, sai, uno dice, è un titolo, potrebbe voler dire un milione di cose differenti. Beh, guarda, io devo dire che è figo fare il marketing manager ed è ancora più figo farlo in un posto come H-Farm. Per due o tre motivi, e dopo vengo a raccontarti la giornata, che è veramente variata e variabile a seconda del tempo. Uno perché è un posto dove c'è continuamente innovazione. Vi raccontavo prima, ieri sera c'era un club sull'intelligenza artificiale, 150-200 persone che chiacchierano di intelligenza artificiale. Probabilmente a 45 anni, se lavorassi in un altro ambito, non avrai speso un'ora e mezza di tempo a parlare di prompt, piuttosto che di banche dati di prompt o di come si costruisce un prompt interessante per fare un determinato... raggiungere al meglio un determinato task. E questo quindi ti porta a rinnovarti continuamente e a essere continuamente curioso, a essere continuamente stimolato a inventarti, a cercare cose nuove, che nell'ambito del marketing è per me uno degli elementi fondamentali e anche uno degli elementi divertenti. Cioè io se devo fare la stessa cosa per tre anni di seguito non ce la faccio più. Anche perché arrivo da un'esperienza, la mia, da giornalista, che era quella che ogni giorno pagina bianca si ricomincia da zero. Certo. Per cui per me la cosa più difficile all'inizio è stata quella di pianificare a lungo termine. Perché io ero abituato che arrivavo a sera, chiudevo il giornale, si mandava in stampa e il giorno dopo parla al centro. Sì. Invece, chiaramente nel marketing, così come in tutte le attività d'azienda... Pianificazione annuale minimo. Ah, in necessità di almeno pianificazione annuale. Nella formazione pure di più, in qualche modo, perché quello che tu samini un anno probabilmente lo raccogli due o tre anni dopo. Perché la formazione è dei cicli che non sono il ciclo di, che ne so, nella moda, una stagione di abbigliamento estiva piuttosto che invernale. Ma tu semini oggi per iscrizioni che arriveranno. Io oggi sto facendo, sto chiudendo le iscrizioni di scuola per l'anno prossimo. Certo. E di fatto l'80% del lavoro del marketing è già chiuso a dicembre per l'anno successivo. Quindi hai dei tempi un po' disallineati rispetto a questo. E quindi questo è uno dei motivi. Il continuo aggiornamento e il vedere sempre cose nuove. Il secondo è che ho la fortuna di occuparmi di due cose molto interessanti. Che sono, uno, l'International School. Quindi la scuola internazionale di Age Farm. Che ha tre sedi e che va dai tre, diciamo, ai 18 anni. In lingua inglese è un percorso molto, diciamo, anglosassone come impostazione. È molto che guarda all'esperienza, alla competenza che si acquisisce, non tanto alle nozioni che ti devo insaccare finché sei seduto. E l'altra è la parte universitaria. Quindi quella over 18, lauree triennali, lauree magistrali, che sono due mondi, anche queste in lingua inglese, però sono due mondi completamente differenti. Quindi anche all'interno dello stesso contenitore ho la fortuna di potermi confrontare con target diversi, soggetti diversi, necessità diverse, messaggi diversi. E questo è l'altro aspetto per me fondamentale. Non riuscirei a stare in un posto che vende lo stesso prodotto uguale a se stesso continuamente. Perché appunto quel tipo di formazione da cui arrivo fa sì che dopo un po' il rischio di noia sia altissimo. Ok. E quindi cosa fai durante la giornata? Beh, allora diciamo che c'è una parte di gestione quotidiana degli affari di tutti i giorni, quindi dalla parte amministrativa. La parte più interessante è quella di gestione delle campagne correnti, quindi valutazione di ciò che oggi è in comunicazione o è fuori, che ha l'obiettivo di generare lead in primis per poi cercare di convertirlo in iscritti. Quindi la valutazione della singola campagna e la pianificazione di tutti gli aggiustamenti o le nuove cose che si possono inserire nella promozione. Un po' come quella cosa di cui stavamo parlando con te di Future Shots. Future Shots è un evento che fa H-Farm, che è un evento di cultura, cioè un evento culturale, che in realtà... È nel piano marketing? Nella mia parte di... Cioè H-Farm lo fa solo perché è un tema culturale. Certo. Le parti dentro H-Farm che hanno come comunque obiettivo quello di dover fare degli iscritti o comunque posizionare il brand o posizionare dei prodotti, cerca di, dentro quell'evento, trovare le chiavi perché chi arriva per un aspetto culturale possa anche trovare delle attività che in qualche modo lo riportano a guardare a quello che facciamo in termini di prodotto. Negli Stati Uniti si possono fare i cartelloni degli avvocati, per esempio. Cosa che qua non possiamo fare? Com'è dover promuovere, fare il marketing di una scuola? Perché non è normale, diciamo, poche scuole si promuovono. Guarda, è vero. Infatti c'è poche scuole in Italia. All'estero in realtà soprattutto le scuole private, le scuole internazionali che hanno un posizionamento diretta, elevato e in qualche maniera anche un tipo di offerta formativa che parla a una nicchia di persone che hanno la sensibilità culturale di guardare ad altro. C'è un po' più storico di... Io ho lavorato per Le Roche, ma se li conosci? Le Roche, no? È una scuola... È un alberghier... È una tipo... Ah, sì, sì, certo. Esatto. Sì, sì, li conosco. Super ricconi in Svizzera, a Cramontana. È una delle due o tre scuole di hotellerie più importanti che ci sono al mondo. In Svizzera diciamo che la Svizzera e l'Inghilterra sono la patria delle istituzioni formative private, perché c'è un'attitudine alla spesa nella formazione privata molto più alta di quella che c'è in Italia, che è molto bassa. Perché? Perché siamo sempre stati fortunati ad avere un'ottima formazione pubblica, che resta ottima. Non è che in questo momento lo sia meno. E quindi com'è fare pubblicità alla scuola? È interessante ed è bello perché non parli quasi mai al tuo target diretto. Certo. Che sono i bambini. Devi parlare sempre ai genitori. E quindi in qualche modo, sempre, quasi sempre, anche per le lauree triennali, tante volte parli un po' al genitore che è poi il soggetto, non dico decisore, ma che avvalla la scelta. È difficile soprattutto quando c'è un'istituzione formativa nuova come H-Pharm, che ha messo radici prendendo un'accademia di alto profilo dall'Università Caposca di Venezia con cui collaboriamo, l'Università di Cicester, l'University of Europe, ma che in termini di brand nella formazione è piuttosto giovane. La formazione vive di legacy sostanzialmente da sempre. E quindi devi convincere anche il genitore. Non è sufficiente. Se tu andassi a casa e dicessi mamma voglio andare ad Harvard, tua mamma non direbbe niente, non metterebbe neanche in discussione mamma devi andare ad H-Pharm, probabilmente devi convincerla. Quindi magari se a mamma è già arrivato o a papà è già arrivato un messaggio da qualche altro canale che gli ha raccontato cosa fa H-Pharm, è più semplice che il processo di decisione sia più rapido e che quindi il funnel sia più stretto e il momento in cui intercettiamo il lead sia un pochino più vicino al punto di conversione e non a chilometri di distanza. Quali sono i canali su cui comunicate? Cioè fate i cartelloni? Ho scritto iscrivito figlio a H-Pharm. Facciamo pure gli autobus. Pure gli autobus? La parte offline o statica resta nella formazione una piccola parte che si fa un po' per presidio, un po' per posizionamento. È quasi immisurabile, nel senso che per quanto tu metta QR code di fatto è una conversione molto bassa, quindi è awareness pura, che però una piccola componente ce la metti. Fatto un budget 100, probabilmente è un 15% che va in statica per intercettare quel pezzettino di target che magari sui social o ci va poco o comunque trova più rassicurante un messaggio che gli arriva da un altro canale. Così come anche i giornali stessi. Io arrivo dal mondo dei giornali, in realtà sui giornali investiamo veramente poco in termini di marketing. Uno perché è molto costoso, quindi non avendo budget enormi, gran parte di quello che facciamo dobbiamo ingegnarci a farlo cercando di spendere, non dico il meno possibile, però insomma di contenere i costi e far sì che quei costi siano molto misurabili nei risultati. E quindi il digital marketing di fatto diventa il canale principale. Qui torno alla tua domanda, quindi abbiamo una parte di cartellonistica, chiaramente brochure, giornali, schermi variabili, stazioni, aeroporti, è tutto quello che ci viene dietro. E poi digital marketing su tutti i canali con tagli diversi. Adesso abbiamo da un po' aperto un canale TikTok pensato e costruito non tanto per promuovere ma per fare awareness, tanto che si chiama Age Fund Students, mette insieme entrambi i target, quindi scuola e college e sono i ragazzi che raccontano quello che gli pare sostanzialmente con supporto della nostra struttura, ma quello che gli pare rispetto a quello che loro vivono nel campus. È inutile che io, marketing manager, mi metta a pianificare per un target in cui io ho la materia prima in casa che la faccia io dicendo ai ragazzi cosa fare quando in realtà probabilmente è molto più sensato che siano loro a decidere come raccontarsi e come raccontare quello che fanno, anche perché la fortuna che abbiamo è che si sono contenti. Cioè, la maggior parte degli studenti che frequentano Age Farm raccontano Age Farm meglio di come la racconterai io? Noi stiamo per fare una cosa simile, non so se si può dire... Ma sì, dai, non citiamo il cliente, però... Abbiamo avuto un'idea molto simile. Sì, sì, stiamo dando in gestione il TikTok di un'università famosa italiana agli studenti e andando a cercare anche degli studenti creator in modo tale da ingaggiare e poi dare un volano di visibilità anche ai contenuti. È pubblico o è privato? È privata. Ah. Competitor. Beh, non è molto competitore. No, è un proprio competitore. È lontanissimo. Sì, però questa cosa è molto interessante nel senso che di fatto la cosa che dico sempre è se vuoi parlare a un 15enne fai parlare a un 15enne quindi assumi un marketing manager a un 15enne. Questa cosa è molto intelligente. Non c'è dubbio. A noi ci hanno bloccato però perché hanno paura che blocchino TikTok. Sì, in maniera preventiva hanno detto per evitare scivoloni siccome probabilmente l'Europa farà qualcosa su TikTok noi siamo un ente comunque con una visibilità di un certo tipo. Voi siete più liberi. Cioè H-Farm è sempre stato un po' energy. Questo infatti è l'altro è il terzo aspetto dei perché figo lavorano in H-Farm perché Riccardo Donadon in primis che è il fondatore di H-Farm ma da sempre tutte le persone con cui ho lavorato hanno lasciato sempre veramente mi hanno lasciato sempre massima libertà e grande supporto partendo da Giulia Franchin che è la responsabile della comunicazione con cui lavoro a stretto contatto perché poi chiaramente chi deve posizionare il brand e difendere il brand Farm è Giulia e quindi in qualche modo va sempre coordinato tutto non ho mai avuto non ci sono mai stati limiti nel poter fare le cose per cui anche lì dovesse succedere che si chiude TikTok ce ne faremo una ragione chiederemo scusa agli utenti se c'è qualcosa di sbagliato ma è come per esempio adesso noi abbiamo strutturato due cose molto fighe dentro l'università una è una media agency interna fatta solo dagli studenti si chiama Farmedia sono 14 studenti che si sono divisi nei compiti come fossero una vera e propria agenzia e devono produrre e producono contenuti dai testi ai video non sono gli stessi che fanno la radio non sono gli stessi c'è dentro anche la radio sono due che fanno la radio fanno parte di Farmedia e poi abbiamo costituito dentro sempre l'università un'altra cosa che si chiama Lumina che invece è una società di consulenza sempre fatta dagli studenti con entrambe un supervisor docente per dare valore anche accademico a quello che fanno i ragazzi e la possibilità di avere la parte di marketing come feedback e il timore all'inizio era ma se scrivono qualcosa di sbagliato amen cioè l'hanno scritto gli studenti è una loro cosa basta gli diamo quattro regole di buon senso le cose chiaramente se verrà fuori una cosa molto sbagliata verrà modificata e si cercherà di dare anche questo feedback ai ragazzi è già online questo vostro media sì sì è appena partita abbiamo fatto il kick off a fine marzo hanno aperto il loro canale il loro canale social di instagram che in realtà lì abbiamo discusso molto se aveva senso o no che lo aprissero nel senso che per come la vedevo io loro non è che devono raccontare la loro attività loro devono raccontare l'attività che fa Pharma e i loro tre media di riferimento principale sono un medium dove ci sono già una serie di articoli sotto il brand H-Insiders TikTok la radio quindi tutti i contenuti che loro fanno possono uscire direttamente dentro questi canali senza neanche una supervisione da parte nostra poi se ci sono dei contenuti che noi riteniamo particolarmente interessanti noi Pharma centrale riteniamo particolarmente interessanti li rilanciamo anche sui canali ufficiali ma tu parli con gli studenti? sì io poco le persone che lavorano con me di più però sì io ci parlo quante persone lavorano nel reparto marketing? quanti sottoposti hai? allora non ho sottoposti ho diciamo persone che mi consentono di stare dritto ok penso che se non avessi il team con cui lavoro sarei sostanzialmente morto già allora siamo circa tra scuola e college compreso la parte di admission perché io mi occupo poi anche della parte di admission quindi mi occupo di come raccontare il brand e poi in qualche modo anche vedo se quel racconto è stato funzionale alle iscrizioni vere e proprie anche perché così la colpa è solo mia credo che l'obiettivo finale in realtà sia sia darti la colpa esatto sia darmi la colpa siamo una quindicina compresa la parte di admission che è quella che parla poi con gli studenti e con le mamme o con i papà e far parte di un ecosistema come quello di farm cioè la domanda che ti volevo fare era qual è la tua dieta digitale no? come ti informi però tu mi dici ieri era un evento con 200 persone che parlava in intelligenza artificiale quindi sarà quasi passiva questa informazione sì in gran parte è passiva tu ti svegli e apri il cellulare su? beh io guardo prima social per vedere cosa si sta muovendo e cosa fanno gli altri e cosa c'è poi leggo un po' in giro un po' tutto da Torch a Will da un po' di blog di settore a Discord alcuni canali dedicati ce n'è uno che hanno aperto due ex start-upper di farm proprio sull'intelligenza artificiale è un progetto molto carino e hanno creato un canale Discord che consente di aggiornarsi su alcune cose nuove per esempio l'altro giorno hanno postato banche dati di prompt che io non avevo mai visto cioè esistono banche dati con i prompt già pronti per un determinato task quindi ti serve fare un'analisi di mercato su X c'è già il prompt pronto per poter buttare dentro il chat GPT che ti restituisce il risultato e ogni giorno ce n'è una nuova quindi sì è un po' passiva è un po' poi per diciamo scontro incontro vuoi fare una campagna su che ne so Twitch perché abbiamo deciso che un determinato prodotto ha che ne so i summer camp campestivi abbiamo un campestivo sull'orientamento quindi che aiuti i ragazzi 16 17 18 anni che non sanno ancora cosa fare affermarsi una settimana e pensare ok io sono questo studiare all'università di un certo tipo vuol dire fare questo vuol dire fare quest'altro quindi per capire dove andare quella roba là un po' TikTok un po' Twitch come sistema allora lì magari vai a guardare meglio come è strutturato Twitch come funziona quali sono le metriche quali sono i meccanismi che è un po' quello che insegniamo a scuola cioè io di Twitch non so un cacchio non so niente però probabilmente nel tempo occupandomi di questo mestiere ho capito un po' come funziona il sistema e quindi al aggiungersi di un media hai più o meno i parametri che ti servono per capire come funziona inserirsi poi dentro quel media ti bancano le technicalities magari però non puoi essere boomer esattamente e soprattutto non puoi pensare ed è quello appunto che in tutti i percorsi che facciamo viene posizionato non puoi pensare che quello che impari oggi ti serva domani quello che impari oggi ti serve per avere gli strumenti per sapere cosa studiare domani per usarlo domani perché oggettivamente la formazione che tu acquisisci in questo momento è ormai ha una obsolescenza veramente fin troppo rapida quindi la cosa fondamentale è darsi la struttura nel momento in cui ti hai la struttura riesci a navigare e non ti stanca questa rincorzione cioè prima tu dici il mio motore la curiosità il continuare se no mi annoierei è vero mi ritrovo in tutto quello che dici a volte io dico cazzo che va al giorno che mi sarò stanco di continuare a rincorrere the next big thing non mi spaventa questo perché non so perché non ci ho mai pensato di quanto potrebbe essere o quanto è faticoso rincorrere l'ultima tendenza mi stressa e mi schiaccia molto di più la rincorsa del risultato del numero quello oggettivamente è la parte quello gasa dell'enalina pure no io no quello è devo dire quella per come liceo classico liceo scientifico esatto no guarda che è proprio quello cioè io il mio percorso da giornalista è stato un percorso in cui il risultato finale era solo se la notizia ce l'avevi o non ce l'avevi esatto se prendevi o non prendevi un buco non quante copie vendeva il giornale esatto e quindi quella cosa lì è la cosa che a me ha pesato di più mi pesa meno andare in cerca di una roba diversa molto meno Michele ha preparato l'hai preparato? il quizettone il quizettone siamo già al momento quizettone in realtà siamo al momento precedente al quizettone ed è ti facciamo vedere delle cose ti parliamo di cose e le commentiamo insieme sì ok ah ok quindi siamo al momento prima del quizettone siamo al pre-quizzettone abbiamo spoilerato che ci sarà un quizettone sì beh io parlerei come prima cosa di Open to Meraviglia? sì di Open to Meraviglia sì perché è molto criticata sì anche tanti miei colleghi youtuber hanno fatto i loro rilacchiappa like criticandola per me non è così male io ho visto la tua story dell'altro giorno che dicevi ma sì dai non è male sta roba qua sono confuso ho letto un po' ho cercato di ascoltare pareri comprare un parere già fatto farlo mio di fatto sarebbe facilissimo dire una merda totale mega stereotipata voglio sentire la tua idea e poi commentiamo allora io sono influenzato e questo va a premiare l'operazione di post marketing che ha fatto l'agenzia che ha lanciato che ha costruito il progetto dalla pagina di ringraziamento che ha che ha comprato per diciamo cercare di invertire il trend una di oggi esatto armando testa possiamo anche dirlo e mi ci ritrovo un po' nel senso che sono abbastanza laico sul contenuto nel momento in cui è rispettoso e non eccessivamente dissacrante tale per cui possa creare diciamo delle difficoltà culturali di orientamento alle persone ed è figo comunque oggettivamente insomma ha fatto parlare di sé non so se consapevolmente cioè io non so se hanno detto facciamo questa cosa perché spacca tutto e tutti ne parleranno anche male chi se ne frega perché secondo me questo è un rischio che raramente soprattutto per un'istituzione pubblica qualcuno prende e percorre l'anno è stata cavalcata insomma in maniera interessante adesso per dire grazie mille di tutto quello che avete detto è fatto ancora prima che la campagna esca io non so se cioè ripeto se l'hanno fatto prima coraggiosissimi perché io un rischio del genere non l'avrei mai assunto è che gli italiani non sarebbero il target propriamente di questa campagna e se invece si sono indignati in tanti perché non essendo del mestiere pensano che 9 milioni se non sarei dati in una valigetta al grafico che ha photoshopato la faccia della della venere sulle tipe quando in realtà se vai a vedere la campagna annuale il budget include cartellonistica si si acquista media spazio il budget è anche quasi risicato secondo me anche perché mi pare siano forse 12 paesi compresi gli Stati Uniti rispetto al budget di Dubai della Turchia di questi posti qua guarda io ti dico io ho sempre come punto di riferimento un collega che mi raccontava quanto investiva una diciamo società che faceva corsi di lingua diciamo così in Cina il budget che aveva per il solo mercato cinese era 3 milioni di euro per il solo mercato cinese questi sono 9 milioni per 12 paesi e questo un po' di anni fa quindi immagino che oggi sarebbe stato il doppio barra del triplo 9 milioni di euro per quei paesi non la vedo sono tantissimi soldi però nel marketing e nell'acquisto spazi non è una roba incredibile tu hai visto Madman la serie sui pubblicitari nella prima puntata fanno fare il tour dell'agenzia pubblicitaria a Peggy la stagista e l'agenzia è un'agenzia creativa e c'è tutto il piano con i creativi e lui a un certo punto le dice proprio non pensare che questo sia il nostro business questa è solo la ciliegina sulla torta che fa pensare al cliente di star comprando qualcosa noi ci occupiamo di marginare sulla vendita di spazi pubblicitari e quando si parla di 9 milioni di euro probabilmente stanno spendendo principalmente per l'acquisto media appunto probabilmente per un po' di gestione social e poi chiaramente per la creatività la gestione social poi alla fine della fiera sono sempre ore uomo quindi per quanto tu vada dalla migliore agenzia del mondo non potrà mai esattamente non potrà mai far pesare il costo di consulenza di un uomo oltre una certa cifra quindi non è sicuramente quello che incide può esserci un po' di infrastruttura dietro landing city ma anche lì insomma sì sì ma allora a me ha scandalizzato che ovviamente diciamo il commento populista era oddio 9 milioni di euro che schifo hanno usato anche un video preso girato in slovenia pare che hanno preso le immagini di shutterstock però questo è diciamo populismo sì i nostri colleghi che hanno detto che schifo questa campagna è mega cringe oddio la venere i botticelli non si può a me hanno fatto sorridere perché di fatto gli americani sono mega cisi i cinesi pure c'è quell'idea stereotipata lì italia no la cosa che un po' a me ha lasciato così è stata che hanno preso un'idea del virtual influencer che è una roba di tre anni fa te lo stavo per dire e l'hanno provata a riesumare in maniera però fuori contesto cioè non per come è stata presentata la campagna poi in realtà magari la venere verrà animata diventerà una persona vera che fa delle cose e dice delle cose ti stavo per dire la stessa cosa l'unica cosa che mi lascia un po' così è che non c'è ancora il virtual influencer cioè l'hanno detto ma per ora non so se lo faranno io vorrei chattare con l'intelligenza artificiale che parla come parlerebbe la venere quindi immagino un po' un po' un po' un po' un po' classico sicuramente però parla da dea cioè non ha mai cioè non ho ricordi io ho detto soft porno sto pensando ci saranno i porno deep fake con la faccia della venere se esiste qualcosa esiste la categoria esatto però per esempio a questo proposito proprio intelligenza artificiale ieri per esemplificare la differenza tra chat gpt3 e chat gpt4 c'era la richiesta di il prompt era descrivimi come qual è la ricetta della pasta al pomodoro come se fossi Dante e tra chat gpt3 e chat gpt4 a parte l'abisso di risultante banalmente chat gpt3 non riusciva a simulare la terzina dantesca chat gpt4 lo faceva in prima e con la terzina l'altro faceva quartine e so che è una sottigliezza ma io non so distinguere da classicista ciò di cui sto parlando comunque insomma sembravi fatto l'artistico né scientifico né no però a dire era una sottigliezza però appunto talmente sottile che in realtà l'intelligenza artificiale tra la prima generazione e la seconda generazione distanza 4 mesi in realtà aveva una sofisticazione molto più alta per questo mi stavo chiedendo da che fonti avrebbe potuto attingere un bot per far parlare venere e quindi perché poi alla fine da di là gli costa meno acquistare part time una ragazza che si mette a rispondere agli utenti poi c'è chi ha rubato il profilo cioè sono state subito le operazioni hanno acquistato il dominio open to meraviglia no anche tipo un profilo twitter qualcuno si è registrato subito però la roba del dominio per esempio per una cavolata perché poi in realtà il dominio è meraviglia senza open perché la campagna si chiama open però poi non mi ricordo comunque però io voglio dire alla fine è come quando mi pare gli uffizi hanno cominciato a raccontarsi su tiktok cioè c'è un po' questo l'accademia è l'accademia no dico si scusa è l'odio per l'accademia di Marcello che torna è vero gli accademici che devono rompere le palle però sai anche lì effettivamente ci si stranisce di nuove modalità di racconto che ripeto se sono rispettose delle persone e non le dono nessun tipo di sensibilità pesantemente madonna non succede mica niente cioè ogni cultura ha poi preso la cultura precedente e la riusata se è occupato di street art immagino in qualche modo visto diciamo i trascorsi urban anche la street art stessa ha dei riferimenti culturali che usa e li riposiziona cioè fa parte un po' della cultura quindi sì in Italia tendiamo un po' a creare sovrastrutture cioè il vino comunque fa ancora fatica a comunicarsi uscendo dalla logica del sommelier che parla una lingua incomprensibile la stessa cosa i musei appunto aprono tiktok oh mio dio poi di fatto questa campagna la campagna commerciale che vuole che la persona da Austin Texas arrivi a Milano Alpensa si faccia il tour Venezia Firenze compri i souvenir quindi a me quella cosa non ha scandalizzato io volevo farmi anche un calcolo sul ROI di una campagna del genere perché tanto sulle casse dello Stato no tu sai che l'americano medio spende 5.000 euro in vacanza anche di più sì quindi tu fai che il 22% d'iva sulle vendite dei servizi e prodotti che lui compre in Italia sono almeno però va in dogana lì non la paga esatto vabbè ma sì ma la pagherà lui la pagano i soggetti che gli hanno venduto i prodotti esatto lui è frivat se non sbaglio gli americani non hanno sono di un ma scusa quando va al ristorante tieni gli scontri esatto il prodotto è già lì quindi secondo me ogni americano dai 1.000 ai 2.000 euro allo Stato italiano giusto quindi per tornare servono 9.000 americani se volete ce la fanno a convertire 9.000 americani ma questa non è una campagna conversione direi vorrebbe dire invece di calcolare la conversione tipo usa il codice il codice coupon poi il macro tema qua invece è che quando fai comunicazione di un ente che ha degli interessi politici molto forti questa è l'espressione della Sant'Anché quindi chiaramente si portava dietro una determinata critica che poi nel mondo della comunicazione diciamo che non sono tutti pro Sant'Anché per attitudine quindi ci stava questa questa reazione però idem Expo idem ma tutti i grandi enti Enel rifallogo che merda il logo di Enel nuovo quindi secondo me quello è un lavoro difficile cioè il creativo di Armando Testa vai sempre in quanto è credibile poi soprattutto quando questo appunto ritorna la parte un po' di esperienza da giornale che ha fatto politica e ho raccontato politica per un po' di anni anche se locale nel momento in cui tu ti occupi del pubblico dell'ente pubblico della struttura pubblica ci sarà sempre una parte che non è d'accordo con la scelta perché c'è comunque una lettura politica l'opposizione in qualche modo sì esiste la cosa più figa che hai fatto la campagna che tu dici guarda sta roba proprio la coccarda sulla mia divisa sulla mia uniforme da militare non è una vera è un incrocio tra una campagna e un'attività reale nel senso che poi alla fine quando lavori con massima libertà in qualche maniera il marketing manager ha anche la libertà di poter definire un prodotto che sia rispondente alle necessità di marketing quest'anno abbiamo fatto ci siamo inventati in tutto il team una cosa che si chiama un weekend di orientamento ed è due giorni di full immersion in farm in cui uno studente viene a sperimentare com'è stare in un posto così per non studiare in H-Farm ma per capire cosa vuole andare a fare un domani quindi la cosa che mi ha dato più soddisfazione al di là di campagne più o meno carine più o meno interessanti più o meno belle che abbiamo fatto è quando dalla campagna che serve a creare attenzione si genera anche poi un reale un reale prodotto vero che poi ha anche un valore perché appunto ha aiutato un centinaio di ragazzi quest'anno a capire cosa vogliono fare all'università poi l'altra coccarda che mi metto è quella comunque di aver portato e questo oggettivamente è la soddisfazione numerica più interessante una scuola internazionale che H-Farm ha preso in mano con 179 studenti in 6 anni ad averne 690 con una crescita oltre il 20% all'anno in un settore veramente complicato competitivo sì competitivo comunque sei intanto non si può aprire una scuola privata così d'emblè devi fare un po' di passaggi complicati ci sono modi diversi a seconda che tu la apra che tu ne acquisti una e poi però devi fare comunque degli accreditamenti quindi c'è una serie di processi noi abbiamo comunque siamo partiti da un esistente che era l'International School di Treviso che abbiamo poi potenziato allargato arrivava alla terza media abbiamo aperto le superiori bla 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 però oggettivamente ha avuto una crescita anche frutto degli investimenti importanti che ci hanno fatto in termini di infrastrutture di servizi di docenza perché poi il prodotto alla fine conta a spanne che budget gestisci diciamo come possiamo metterla per non dire proprio la cifra che mi fa il brutto eh sì 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 cioè se fossero delle noccioline quanti chili di noccioline ogni noccioline ogni chili di noccioline costa no diciamo quante gole d'orci compri diciamo così diciamola così quanti appartamenti no non tanti dipende poi dove esatto a Milano forse uno noi investiamo in marketing anche lì poi diciamo in produzione di contenuti e acquisto media un 1,5% del fatturato che è una cifra molto bassa rispetto a rispetto alla media che dovrebbe essere diciamo di scuola tra il 5 e il 10% insomma quello che un po' tutti dicono percepito dal brand farm in Italia nel senso che comunque vabbè chiaramente io conosco bene ci sono stato però la mia idea qua al nord è molto conosciuto però al sud che la conoscono in tanti ok sì e soprattutto è molto conosciuta e molto pervasiva in determinati ambiti in determinati settori cioè chi arriva dal nostro mondo o comunque che si occupa in qualche modo di innovazione via dicendo lo conosci di sicuro però c'è un mondo enorme che non è fatto di queste persone c'è un mondo enorme che non so chat GPT la prova solo per vedere che errori fa non so come dire che non ha quel tipo di dimestichezza con certi ambiti fuori dalla nostra bolla c'è addirittura chi non l'ha ancora mai provato c'è GTP probabilmente che per noi è folle ma in realtà io oggi ci lavoro tutti i giorni ah sì io non ancora wow neanche io ma è un po' per pigrizia però sì perché devo fare l'ascrizione con la pagamento ancora non l'ho fatta e per cosa per tutto da testi a programmazione a se ti dico queste cose come imposteresti il lavoro da qualsiasi cosa poi a fini sistemi ma ripeto ieri mi è saltato ancora di più all'orecchio e agli occhi la quantità di cose che si possono fare veramente impressionante veramente impressionante c'era un collega seduto vicino a me che aveva fatto già con le API aperte la connessione con Google Sheet quello è interessante lui aveva un Google Sheet preimpostato con determinati campi liberi vuoti e se lui cambiava il nome in cella A1 di un brand Tesla piuttosto che Gucci lui aveva si compilavano tutti i campi con tutti i dati disponibili su quel brand che lui interessavano quindi ogni voce e quelli sono i prompt precostituiti cioè lui avesse già fatto un prompt con tutte le cose che gli sarebbe servito sapere per fare un'analisi di mercato le integrazioni sulle mail sui documenti quella è una roba interessante che c'è chi se la sta sviluppando secondo me è tempo di fare un quizettone Michi sì quizettone è il nostro format rodatissimo divertentissimo rodatissimo in cui devi rispondere di getto a dieci domande spero non sia troppo difficile no no è tipo tetto e culo sono queste cose qua allora la so creator preferito a parte i presenti ah beh certo stanga ok ok perché mi fa ridere ti fa ridere tu sei costato a seguire a guardare svariati creator immagino tu seguire anche creator che non ti piacciono difficile cioè non mi metto mai nell'ottica che non mi piace cioè c'è quello che mi piace certo però siccome quello che non mi in generale il creator è un po' lontano dalla mia cultura dalla mia sensibilità per cui è difficile cioè tendenzialmente nessuno mi piace di per sé anche che giornalisti e creator si fanno un po' la lotta sì sì poi ti dico ormai io giornalista mi ci sento lontanamente però in generale è difficile che proprio uno dico non mi piace perché tanto non lo capisco cioè ci sono alcuni creator che guardi a mia figlia poi dico che è sta cioè proprio non capisco il senso perché sono boomer non sono boomer sono generazione z ma z addirittura sono x x scusa non sono neanche millennia volevo dire non sono boomer non sono millennia sono x perché sono 77 seconda domanda pubblicità dei tuoi tempi preferita coca cola cornetto algida ma tipo quale coca cola albero di natale no io non ho idea lacrimuccia ok cornetto algida cuore di panna c'è un cuore di panna ok serie tv preferita serie tv preferita friends direi a me è madman per questo abbiamo aperto flatman cazzo spero ho la tua domanda dopo fedel su luis fedez ah fedez luis fedez si nel senso che luis lo conosco poco ho visto delle cose belle che ha fatto però in termini di brand prendo fedez ok segui il calcio hai giocato squadra preferita giuve ok passiamo alla domanda successiva lui ti cosa gratifici tu no io Milan quindi vabbè poteva andarci peggio diciamo anche in vista la semifinale podcast preferito mi piace molto quello di gli ultimi di cora media ah ok un po' tutti devo dire ok li sto ascoltando non ne ho uno principale ma vado un po' l'unico di cora che ascolto è quello di Luca Bizzarri bello è figo quello no? prima cosa che fai appena sveglio proprio primissima primissima vado a svegliare i bambini ok prima della pipì prima di guardare il telefono eh sì o prima della pipì io guardo il telefono eh sì cioè almeno no no perché se no sei in ritardo su tutto dopo tu che fai Michi telefono eh telefono sì no io mi sa di no perché suona cioè sì odio suona la sveglia quindi sì sicuramente il primo oggetto che tocca è sicuramente il telefono ok però non guardi messaggi no io invece no prima cosa telefono messaggi mail cose poi pisciatina e poi inizia la giornata ok ehm cosa c'è sulla tua bio di Instagram? hai Instagram sì usi Instagram uso Instagram poco per me stesso usi LinkedIn? uso LinkedIn ma uso anche Instagram posto poco diciamo non sono ci lavoro ma eh ho poca eh attitudine all'esposizione di me eh o di quello che faccio eh proprio perché arrivo da un mondo in cui la pubblicazione era un valore non secondario cioè per me pubblicare qualcosa resta un po' quando pubblichiamo è un po' sacro pubblichiamo sì resta un pochetto eh certo questo mi fa sì adesso invece ne pubblichi cento speri che uno vada bene esattamente però sul lavoro lo riesco a fare con me stesso non lo faccio quindi uso un po' più LinkedIn in termini personal branding diciamo comunque perché per lavoro devi avere un posizionamento ma non sono non sono molto social quindi sì vado a vedere cosa c'è nella mia bio di Instagram nome e cognome ci sta nome e cognome social preferito quindi LinkedIn no 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 Instagram sì in termini di intrattenimento sicuro cioè come media per me Instagram l'hai provato Berial l'ho provato ce l'ho hai già smesso sì uso poco ho quasi già smesso però siccome siamo stati probabilmente in Italia non avevamo trovato altri profili universitari che l'avessero abbiamo il profilo dell'università e agli studenti piace molto quindi lo facciamo noi abbiamo il telefono dell'ufficio che ogni giorno viene dato a uno studente loro fanno Berial con quello che vogliono bello sostanzialmente figo ultima domanda hai davanti Elon Musk cosa gli dici? questa è bella portami su Marte e poi portami anche indietro però direi il mio profilo di Twitter lo voglio spunto a blu sì puscialo cioè tipo farlo vedere a tutti gli utenti di Twitter e poi ci metto il mio codice a sconto di qualche sponsor e vediamo che succede vediamo che succede no io andrei cioè se mi garantisse andate e ritorno da Marte diciamo che chissà che mal di non si chiama mal di sciatto io soffro mal di mare anche io tantissimo non lo so però quello ti resta cioè un'esperienza che probabilmente faranno no probabilmente non farà nessuno qual è un personaggio che tu dici che è lui è proprio il mio guru oggi sicuramente Elon Musk è quello più di riferimento ah sì? ah quindi hai colto il personaggio giusto? no nel senso che è quello che oggi percepisci come più di frontiera almeno io per quello che conosco io più di frontiera nonostante tutti questi un po' scivoloni allora ti dico la verità al netto di una serie di scelte non condivisibili non belle e via dicendo però lo rendono un po' meno patinato un po' meno non so non sarei contento di essere un suo dipendente probabilmente di quelli che hanno dovuto salutare i posti di lavoro però almeno cioè ha attorno un'aura che non è più da santone perfetto ma è una persona una persona reale e mi pare che comunque in questo momento abbia abbia avuto la capacità la voglia la capacità di rischiare di non essere politica di correct su tutto cioè si è assunto le responsabilità di dire delle cose anche negative ripeto lontanissima dalla mia sensibilità e dalla mia cultura però almeno lo ha fatto senza nascondersi non so come dire tra i mega billionaire è l'unico che dice le sue cose senza filtri cioè mi sembra che non faccia attenzione ad essere politica di correct perché è una cosa che trovo sempre più devastante in generale su tutto anche perché noi facciamo marketing e ci divora questa cosa chiaramente perché dobbiamo sempre rispettare ormai dire una parola sbagliata è facilissimo no? è facile poi tu che l'università tema della scuola no ma poi devo dire che lo è un po' su tutto cioè io trovo che stiamo andando verso un politically correct su tutto forzato che è al di là della realtà cioè la realtà non è questa stiamo forzando la realtà ad essere pura pulita uno deve uno deve agire con l'attitudine a non voler ferire gli altri però se succede può succedere non lo so invece si viene cancellati no? spesso è lo stesso discorso di togliere determinate cose dai film degli anni 80 agli anni 90 perché non corretti rispetto a una narrazione di oggi che potrebbe mi sembra veramente che stiamo cercando di modificare la realtà se la realtà era quella era quella cioè l'accetteremo dove c'era un valore storico era così la società era quella vogliamo cancellare far finta che non fosse no anzi secondo me poi l'effetto è quello contrario nel senso che cancellare significa non educare di fatto quindi nascondere quello che è successo se tu mantieni le tracce probabilmente effettivamente potrai avere una garanzia maggiore che non si non si possa riproporre una determinata dinamica se quella dinamica non andava bene se la cancelli probabilmente nel tempo di una due generazioni se ne perde memoria e quindi potrà riaccadere il tema della memoria su tantissime cose credo sia alla fine questo stringi stringi che ti dicono importante la memoria il ricordo la storia magistra vite forse alla fine stringi stringi è solo questo se mi ricordo più o meno cazzate che sono state fatte magari quando mi ci ritrovo non le rifaccio o se le rifaccio le faccio con la consapevolezza di volerle fare un'idea pazza lato marketing una campagna che vorresti realizzare ma che magari è impossibile da realizzare vorrei realizzare micchi fai un esempio tuo per esempio ma no porto l'esempio di fabri il mio socio di gammi lui vorrebbe mettere un robo gigante da qualche parte un gundam in una piazza un gundam in una piazza per qualche brand sì tutte le volte che facciamo una campagna oh perché non ci mettiamo un robo gigante no neanche stavolta tu sai che c'è un'azienda che c'è un robo gigante all'ingresso attenzione questo potrebbe cambiare è gigante è un transformer gigante altezza sarà 3 metri ok dove? è una texa vicino a H-Farm fa componenti per la gestione delle centraline delle auto sostanzialmente e ha un un transformer sì un transformer gigante giallo all'ingresso dentro la hall che è una hall altissima texa texa ok e tu cosa vorresti fare? io una cosa che volevo fare l'ho fatta mi ha dato molta soddisfazione forse era questa anche una campagna bella fatta abbiamo portato in giro per raccontare da scuola un airstream degli anni 70 e l'abbiamo portato nelle piazze storiche di un po' di città cosa è un airstream? l'airstream sono quelle roulotte argentate americane ma appunto nate dopo negli anni 60 negli anni 70 sono veramente delle roulotte iconiche e cosa c'era in queste roulotte? c'erano di tutto dei computer una radio dei robot piccoli non gundam che servivano a raccontare cosa faceva farm in una serie di piazze questo l'hai fatto? questo l'ho fatto ti faccio noto quanto nel frattempo? a gusto personale hai 100.000 euro da spendere per un anno di campagna e tu hai la possibilità di decidere a gusto personale su quale canale spenderli qualsiasi tua scelta sarà la più efficiente quale sceglieresti? tipo io farei tutto influencer marketing perché mi piace in questo momento non posso prescindere dal fatto che so cosa sta funzionando di più o di meno e qua ti tiro una volata non banale gli spenderei non tutti ma l'80% in influencer marketing non so quanto abbia senso o meno ma mi piacerebbe molto trasformare l'esperienza degli studenti che studiano da noi in una sorta di reality e di racconto tipo il collegio tipo però senza tipo quel tipo di studenti tipo tipo però sì diciamo che tipo Shark Tank e il collegio uniti insieme sì diciamo di sì carino carino questa è una cosa che mi sarebbe piaciuta fare poi è tutta una serie di complessità in termini di produzione banali quindi non la faremo però è una delle cose che mi resterà perché ci vedo anche lì perché ci vedo un sacco di contenuto che è difficile da raccontare e da trasmettere attraverso tutti i canali quindi l'unico modo che mi viene per raccontare tutto è seguire tutto e fare in modo che quel tutto diventi il grande fratello tutte le telecamere microfoni comunque perché veramente i ragazzi sono un patrimonio di idee capisco la sensazione e non riesci a raccontarli e non ce la fai e anche se ce la facessi a raccontarli non hai abbastanza possibilità di posizionarlo nei canali perché sia visibile però è impossibile di ci fare un albo del genere come fai trapprai queste cose esatto anche fatto minorenni no è un casino e poi siccome non lo so il genitore che manda guarda il motivo poi per cui non lo fai davvero è perché dovresti assumerti a priori il rischio di cui abbiamo parlato prima che poi possa essere letto in centomila modi diversi e quindi non potrei mai non me lo assumerei mai quel rischio però mi resterà e poi sicuramente è negativo di questi programmi comunque è trash che è un peccato cioè in termini di intrattenimento lo capisco del perché va quello va il trash e bla 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 però io mi metto dall'altra dall'altra parte dico come cavolo faccio a tirar fuori tutto quello che c'è di progetti di cose anche semplicemente di vita di tutti i giorni di questi ragazzi l'unico modo sarebbe quello ma poi sono certo al cento per cento che la lettura sarebbe quella di venere di una banalizzazione e a priori forse uno shark tank o un x factor o un x factor tipo che ci sono i giudici che premiano la maturità io voglio fare una campagna cattiva quindi cosa fareste? che ne so per un berende di alcol manderei tutti a Las Vegas a fare una notte da leoni una cosa del genere ho capito oppure oppure qualcosa di ma vi faccio una domanda a voi le pubblicità comparative piacciono oppure i dissing pubblicitari piacciono? a me piacciono tantissimo ma non si possono fare in Italia non direttamente ma allora pubblicità comparative si mi sembrano un buon modo in realtà sarebbe il modo migliore di fare pubblicità esatto i dissing alcuni mi gasano poi però c'è un po' quell'effetto meme marketing per cui lo devono fare per forza tutti ce ne hai uno in testa tu? Samsung e Apple sono una figata sì beh i video di Apple Microsoft Apple ancora di più I'm a Mac quello di Bello vabbè è il primo che mi viene in mente Pepsi Coca Cola pure fighissimo sì poi vabbè Mac Burger King poi hanno fatto la giornata dell'amicizia sì è vero però devo dire che io trovo sempre divertente la chiave che si trova dalle lattine sul distributore al cartello sì sì vorresti fare una pubblicità comparativa di Hedge Farm? no non la farei non la faresti? non puoi neanche dire con chi la faresti tra l'altro no dovrei farla tra l'altro è successo quest'anno è successo che un altro soggetto abbia fatto una pubblicità molto una creatività molto simile a quella che avevamo noi in campagna ok proprio e mi ha colpito perché era veramente identica cioè stesso copy stesso e si può fare? cambiava il font ok si può fare cioè che fai gli denunci non hai per litigare perché un quadrato su Instagram usa la stessa parola che tra l'altro è open day usando gli stessi colori lo stesso taglio di immagini cioè era evidentemente un richiamo però sembrava un po' non so Shane e Amazon ok ok però mi ha fatto sì diciamo che noi eravamo Amazon e loro erano Shane è chiaro Alibaba chiaro però voglio dire mi ha fatto impressione quando lo ordini da Ice Farm quando arriva a casa esatto esatto questo mi ha fatto mi ha fatto un po' specie perché effettivamente evidentemente voleva dire che sul territorio perché poi era comunque una cosa non nazionale era riconoscente cioè avevamo scelto un tipo di campagna che quest'anno aveva come claim make it happen cioè facciamolo succedere lo succede in Ice Farm perché erano tutti i valori che in qualche maniera crediamo di passare agli studenti e il fatto che da noi possa accadere fosse stato in qualche modo letto sia come tipologia di immagine che erano tutti i primi piani degli studenti e come tipo di colori alla fine fa anche piacere devo dire che devi metterti a litigare per questo a meno che non hai un danno reale di reputazione che lo fa non una scuola ma lo fa che ne so un'azienda che vende armi non ti metti neanche a discutere di questo mentre una pubblicità fighissima che io mi continuo a ricordare era una pubblicità forse perché mi è tornata in mente con La Meraviglia di Venere una pubblicità dell'ente del turismo irlandese che aveva ricreato in varie città arrivava con una specie di boot che era aperto così bendava una persona e la chiudeva dentro questo boot senza che questa persona si rendesse conto e gli metteva un visore e nel visore questa persona vedeva un pub irlandese vero e proprio cioè vedeva tutta una serie di cose le cavalli le colline e poi il video del visore che era ancora forse un primissimo oculus aveva addirittura le cuffie quindi forse non era manco un oculus il video finiva dentro un pub con delle persone poi lui si toglieva il coso ed era dentro quel pub con l'energumeno che si metteva davanti era una cosa veramente pazzesca fighissima uno di quelli più divertenti l'irlanda spende parecchio per esempio in turismo io direi che abbiamo letto quello che dovevo dire io non so come si chiude un podcast perché i video faccio sempre un post produzione lo facciamo chiudere all'ospite lo chiudo io chiudi il podcast allora è un onore essere stato il primo soprattutto di aver testato il quizzone che però purtroppo adesso chi verrà saprà quali sono le domande e cambiamo ogni volta ecco così non si trovano in difficoltà nel dover pensare cosa hanno nel profilo nel profilo non ci avevo mai pensato cosa avessi nel profilo perché non è niente come me invece è un buon esempio per i nostri figli qua ci insegna sì ho un buon esempio per i vostri figli questo mi ha garantito svariate collaborazioni con i brand da quando l'ho messo sì una menzogna chiaramente però funziona beh quindi io vi ringrazio per l'ospitalità credo che sia spero sia stata una chiacchierata interessante per me lo è stato un sacco e sono curioso di ascoltare i vostri futuri ospiti cosa ci racconteranno grazie mille grazie mille ciao a tutti ciao ciao grazie mille grazie mille